Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però sono lacrime di gioia ve lo giuro Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita Ma veramente? Sì Non mi far parlare, ti prego, io non ci ho capito niente, sinceramente Non so se ci fa o c'è, sinceramente non ho capito niente È rimasta male, è rimasta obiettivamente male, non è possibile Un centesimo Sono contenta, cioè io non ci credevo, è assurdo, è surreale questa intervista, devo essere sincera Però lei dice, io neanche, insomma, voi dite che io dovevo andare sul podio, in realtà io non ci credevo Non ci volevo andare, che c'è andata a fa' No, non ci volevo andare, ma non ci credevo So, io rabbrividisco, dico solo questo No, stiamo cercando, Jacopo, effettivamente di comprenderla Vabbè, vado Fatene un'altra di intervista per capire, no, dici, è bastata? Cioè, per capire cosa voleva dire, cioè, i sottotitoli Allora, vabbè, ho capito, Elisa, non l'hai capita lì Io non l'ho capito, sinceramente non l'ho capita Allora, vabbè, vabbè, vabbè? Grazie a tutti.